Siamo con Riccardi e Lucatelli del Gullace, vittoria allo Junior Club in questo esordio fantastico, raccontateci com'è andata. Abbiamo giocato bene, abbiamo cominciato con un po' dei problemi, soprattutto quando trovavamo attaccato, abbiamo un paio di assenze, poi mezzo al campo non riusciamo a concludere, abbiamo sbagliato il rigore, abbiamo preso il gol, però c'è stata una reazione, abbiamo giocato bene, abbiamo visto che eravamo più forti secondo me. Vittoria Militanzi, speriamo di continuare così. Lucatelli, la tua prestazione? È entrato al secondo tempo, ho fatto quello che ho potuto.